San Giovanni Valdarno e Chiusi arrivano al Fedini con obiettivi diametralmente opposti. I bianco-azzurri con Mr. Coppi squalificato e con Travaglini al posto di Simoni e Sorbini preferito a Fettolini spera nella vittoria e nel conseguente a Prodo al primo posto in classifica. Chiusi che invece proverà a togliersi di dosso quell'ultimo posto che con soli due punti inizia a fare paura alla squadra di Mr. Lugoli. Con la direzione del signor Picciotto di Firenze e con il terreno in perfette condizioni andiamo a vedere il primo tempo. Pronti via e Lassangio si fa vedere subito da fuori aria al primo minuto. Terzo minuto il Chiusi si fa vedere sempre dal limite ma Berti fa buona guardia. Al quarto minuto Picca sferra il tiro ma Nulli ci arriva con la punta delle dita. Sesto minuto Menichini accende la partita con un diagonale che fa 1-0 per Lassangio sul palo e poi va in rete. dodicesimo minuto lo scatenato Menichini dentro l'aria in posizione regolare stoppa la palla tira ma la mira non è perfetta. Quattordicesimo minuto il solito Menichini sferra il tiro da distanza ravvicinata ma Nulli si supera ancora una volta. Dopo il quarto d'ora delle mille occasioni bisogna aspettare 15 minuti quando Sorbini viene messo a terra per l'arbitro è rigore e De Gori non sbaglia dalla dischetto. Sembra un 2-0 scritto in questo primo tempo ma poi il Chiusi trova due magie da 30 metri. La prima al quarantatresimo con Acatullo che trova il Jolly al set imparabile per Berti. La seconda al quarantacinquesimo con un clamoroso tiro cross che Muccifori sferra e sorprende Berti forse un po' colpevole in questa occasione. Finisce il primo tempo con il San Giovanni Valdarno che ha dominato letteralmente i 45 minuti iniziali ma brava il Chiusi che è stata cinica a sfruttare praticamente le nulle occasioni capitategli. Due tiri fortuiti e due reti. Andiamo al secondo tempo e dopo 40 secondi ci pensa Pica che caparviamente trova il gol che ristabilisce i valori in campo. Oggi però il Chiusi è in una giornata magica e al terzo minuto Aggravi la mette dentro sugli sviluppi di una punizione battuta velocemente e su cross del neo entrato Guidotti. Dodicesimo minuto Menichini però fa doppietta di testa su angolo di Degori che mette il settimo gol della contesa. È 4-3. Al trentacinquesimo pallonetto di Pica che supera il portiere e fa 5-3 per un risultato clamoroso al Fedini. Undicesimo gol per l'attaccante Partenopeo. All'ultimo minuto annullato il gol per fuorigioco a Petriccione che subito appena entrato da pochi minuti ha subito fatto impensierire la difesa del Chiusi. Finisce la partita 5-3 il risultato finale un San Giovanni Valdarno che anche oggi trova tanti gol, tante reti, tanto gioco. Un po' distratta la difesa forse perché oggi al Chiusi riusciva davvero tutto ma non ha potuto niente la squadra bianco-rossa perché davanti ha avuto un San Giovanni Valdarno che ha creato tantissimo e che ha messo 5 reti addirittura in una partita. Dal Virgilio Fedini San Giovanni Valdarno 5 chiusi 3.